il cane barboncino è un cane da compagnia il cane barboncino viene promosso pubblicizzato venduto come cane da compagnia sia da allevatori ma anche dallo stesso enci che l'ente nazionale della cenofilia italiana che lo classifica proprio nei cani da compagnia ma in realtà è proprio così il nostro simpatico barboncino è un cane molto attivo e molto avventuroso che in passato veniva impiegato nella caccia in palude nella caccia in acqua alle anatre il suo nome in francese caniche che deriva da canarda che significa appunto anatra e aveva anche un altro nome come scende can come cane da canna ora non so se la pronuncia è corretta in francese quindi perdonatemi e quindi è un cane molto attivo che per secoli è stato impiegato dall'uomo appunto per la caccia in palude in situazioni piuttosto anche complesse difficile quindi è un cane energico attivo intelligente avventuroso intraprendente nelle famiglie viene preso oggi un cane la compagnia per le persone per i bambini un cane molto intelligente ricordiamoci però che anche un cane molto attivo e che un forte spirito d'avventura perché comunque ricordiamoci sempre dello scopo per cui è stato selezionato il cane e così saremo in grado di potergli dare una vita più soddisfacente e farlo vivere al meglio delle proprie potenzialità con soddisfazione sia per il cane e per le che per le persone ciao io sono stefano pesci istruttore edulatore cinofilo comportamentale le sharon cane insegnante pastore svizzero bianco di sette anni e mezzo al momento del video mi puoi trovare al 347 360 16 67 oppure il sito internet www.istruttorecinofilo.it effetto indagini a 360 gradi per aiutare le persone a capire meglio il cane e vivere una vita piena di senso e di benessere sono idratore del metodo together dog ciao da stefano e da sharon ciao saluti barboncini e tutti i cani